Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nostro nuovo appuntamento di video pensiero di oggi 1 luglio 2019 Dio vi benedica, se lo dato Gesù Cristo sempre sia fatta la sua santa e divina volontà Cari fratelli e cari sorelli, vi ricordate che noi abbiamo fatto una puntata proprio sulla SuiWatch Su quello che era successo in quel momento Oggi vi voglio leggere due cose in questo piccolo spazio del video pensiero Che va a vedere praticamente quello che sta succedendo a questa famosa capitana, caro la racchete Che tutti stanno osannando come se fosse, cari fratelli e care sorelle, il migliore, diciamo, il duce Chiamiamola così, perché tanto bisogna chiamarla come va chiamata, cari fratelli e sorelle Viene esaltata come un duce C'è poco da fare, fratelli e sorelle, è così Guardate le ostentazioni che hanno nei confronti di questa ragazza Di questa ragazza, un'ostentazione da, ripeto, da clima, cari fratelli e sorelle Del ventennio, per fare un esempio La considerano tutti come un duce, fratelli e sorelle Come una guida, come se fosse lei quella che risolve tutti i problemi, fratelli e sorelle Guardate che quello che sta avvenendo è incredibile Uno può pensare, cari fratelli e sorelle Io vi dico sempre che l'unico che salva l'anima è solo nostro Signore Gesù Cristo Questa capitana, tra virgolette, non salva l'anima Questo lo voglio ricordare perché è diventata, ripeto, come un duce E attualmente le notizie che ci sono nei confronti di questa capitana È abbastanza, diciamo, diversificate Ci sono coloro che la esaltano, come vi ripeto, come un duce, fratelli e sorelle E ce ne stanno altri invece che la attaccano come se fosse un nemico number one, fratelli e sorelle Quindi c'è una situazione veramente forte, diciamo, da un punto di vista mediatico E volevo dirvi praticamente questa notizia Che oggi il Corriere della Sera dice Seiuoce, caro la Rachele oggi può tornare libera Il Viminare la espellerà Quindi io vi avevo detto la settimana scorsa, se non erro Che quando si parlava dei seiuoce Era quasi, cari fratelli e sorelle Scondato che non gli sarebbe successo nulla Perché fratelli e sorelle non gli sarebbe successo nulla? E ve lo dico a livello di, da un punto di vista di, cioè non è che rischia il carcere Fratelli e sorelle, ovvero ha fatto un errore, fratelli e sorelle grave Però non l'avrebbero arrestata Ma lo sapete per quale motivo? Quando lei fece tutta questa cosa che sappiamo bene, no? Che cosa ha fatto con la sua seiuoce da capitana Io la chiamo da duce, fondamentalmente Ha fatto, come sapete, questa grande situazione Ha creato questa cosa, diciamo, illegittima, illegale Un illecito ha fatto Ma quando uno sa bene, cari fratelli e sorelle Che compie un illecito In realtà, io credo, ognuno di noi Se fa uno un illecito, sa bene il rischio che corre Ovvero che, se non c'hai le spalle coperte, cari fratelli e sorelle Alla fin fine Tu questo illecito non lo fai se non hai le spalle coperte, fratelli e sorelle Cosa accade invece? Avendoci le spalle coperte, fratelli e sorelle Tu lo fai l'illecito Perché tanto non mi faranno nulla Tanto è vero, come dice qui l'inchiesta sulla capitana Se watch, caro la racchete Oggi può tornare libera Il viminale la espellerà Questo è il del Corriere di oggi, cari fratelli e sorelle Quindi, che cosa significa questo, caro fratelli e sorelle? Che praticamente non gli sarebbe accaduto nulla C'è stata tutta una, tra virgolette, messa in scena E come se Praticamente non gli è successo nulla, fratelli e sorelle Cioè, qui dice questo Nel pomeriggio è fissato l'interrogatorio di convalida Il procuratore Luigi Padronato e i suoi vici Che contestano la capitana della sei watch Tre, i reati di rifiuto di obbedienza a nave da guerra Resistenza e violenza contro nave da guerra E navigazione in zona vietate E questo, come sapete Ovviamente è Diciamo l'illecito che ha combinato lei, fratelli e sorelle Secondo quanto il padre ha riferito al giornale tedesco A Noverich Alecmane La capitana Ha sfidato il vicepresidente Matteo Salvini Causando un causus bellicus internazionale Dalla nonnina di Lampedusa si lascia tranquillizzare Certo, caro l'hai molto provata per quanto accaduto Molto provata, tra virgolette, dice l'articolo Provata da ciò che c'è stato prima Cioè dai 15 giorni in mare Dalle difficoltà estreme della situazione Che si è trovata a governare Ma poi allo stesso tempo Molto forte e lucida, sempre tra virgolette Nel rivendicare le sue scelte Più volte dopo l'arresto Ha chiesto come stessero i 40 migranti Sbarcati dalla nave Informando su quali fossero le condizioni Le loro condizioni Ha riferito uno dei legali della Sea Watch E io mi domando No, questi hanno chiesto tutte le condizioni No, lei ha fatto tutte queste cose Ma mi domando Ma quando stavi in mare in quei 14-15 giorni Praticamente Non si è mai chiesto come stavano i suoi Quei poveri cristi che stavano là sopra Cari fratelli e sorelle Questo non si è domandato E mi domando io E è dovuto avvenire in Italia Quando aveva la Tunisia E il Malta Anche se gli avevano detto di no Come gli aveva detto di no l'Italia Aveva quei due porti sicuri E mi domando Perché non c'è andata? Questa è una domanda che fa lei Carola ha chiesto scusa Carola ha chiesto scusa Qui dice Ma giudicare da quanto anticipato Dalla portavoce della ONG tedesca Si intende Allargare la colpa anche ai finanzieri Carola ha effettuato le proprie maroreve Molto lentamente Ed è un fatto che l'unità della Guardia di Finanza Ha deciso di infilarsi nello spazio Già ridotto tra la nave e la banchina Quando la Sea Watch già stava attraccando E' stata una manovra che Carola Non si aspettava di dover fare Nel corso di ingresso in porto Un'operazione di per sé già complicata Soprattutto alla sera In vari momenti non riusciva a controllare Completamente la situazione E' attaccato Noi crediamo che sia il responsabile Che anche nel momento in cui E' stato violato un alt Si faccia questo tipo di manovra ostruttiva Nei confronti di una nave Che parliamoci chiaro Non si ormeggiava alla banchina Per bombardare o minacciare L'ONG tedesca infine sostiene Che la legge Non sia stata rispettata Perché il comandante avrebbe egito In stato di necessità Carola si è sacrificata Per portare in salvo queste persone Magari fosse così come dicono loro Ma ripeto In 15 giorni Si è sacrificata Per portare in salvo queste persone 15 giorni Io questo me lo domando molto volentieri So che ho letto alcuni messaggi Di persone che sono arrivati Sul nostro canale E mi hanno insultato Dicendo Scrivendo Figlioli cari Voi mi potete insultare Quando vi pare Ma non è che mi mettete paura Con i vostri 4 insulti Io per carità Io E' una vita che ce l'ho gli insulti Voi pensate che mi mettete paura Con queste 4 derisioni sterili Che fate Io vi dico Da ascoltare Poi se voi andate qua E non portate Come si dice Una Argomentazione Cari fratelli e sorelle La vostra derisione E' puerile E' sterile Andiamo sull'argomento Andiamo sulla sostanza Non sulla Derisione sterile Perché la derisione sterile Ripeto 2 più 2 Fa 4 Non fa né 5 Né 3 A me mi potete dire Quello che volete Ma chi ha Fa la figuraccia Cari fratelli e sorelle Siete pure voi Che insultate Però Se a voi vi sta bene così Beati voi Io più di questo Mi viene da rito Io quando ho letto queste 4-5 derisioni sterili Che vi invito tutti a leggere A me mi è venuto da ridere Perché Non sanno a che attaccarsi Fratelli e sorelle Ma comunque Va bene Va bene a loro Va bene a tutti Ripeto A me Non mi interessa Ma mi fanno ridere Fondamentalmente Questo ve lo dico E prego anche per loro Fondamentalmente Perché sapete bene Che chi deride Già sa che è sconfitto Fondamentalmente in partenza Ma andiamo a vedere pure Un'altra notizia Sei watch Foto di caro La racchetta Sul social russo VKRU Aperta indagine Dice L'annuncio Della questura Di Agrigenzo L'immagine Del fotosegnonamento Scattata Nei locali Della polizia Di Lampedusa E' stata fatta Filtrare Illecitamente Dice E' destinata A sfociare In un'inchiesta La diffusione Della immagine Di caro La racchetta La comandata Della sua watch Mentre veniva Foto segnalata Nei locali Della polizia Di Lampedusa Lo ha annunciato Il questore Di Agrigento Che per ora Ha annunciato L'apertura Di un'indagine Interna La fotografia Che ritrae La 31enne Comandante Della nave ONG Agente Un agente Polizia A suo fianco E' stata messa In rete Da un utente Attraverso Il sito VKRU Che sarebbe Praticamente Facebook Russo Fratelli E sorelle E poi rilanciata Numerosi utenti Soprattutto Nell'area Dell'ultradestra Accompagnato Da volgari Insulti Nei confronti Della capitana C'è il sospetto Che qualche puliziotto Abbia fatto Filtrare L'immagine Gli atti Annunciato Sempre la questura Di Agrigento Saranno Trasmette All'autorità Giudiziaria Fratelli E sorelle Quindi Questo E' quello Che Il Corriere Della Sera Ha dato Come articoli Di oggi Riguardando La Seguo E la questione Di Carola Ma guardate Che Chi fa del bene Io l'ho detto Già dall'altra volta Chi fa il bene Non si fa Prima di tutto Vedere Fratelli e sorelle Soprattutto Chi fa il bene Come dice Nel Santo Vangelo Non è che c'è bisogno Cari fratelli e sorelle Di farsi vedere Al mondo Per quanto Uno è bravo A farlo Perché quello Che fa lei Fondamentalmente Vuole farsi vedere Meglio di tutti gli altri Quando poi Ci sono persone Che lavorano Nel terzo settore Che ci sono Religiosi Che stanno In tutto il mondo A salvare bambini Famiglie Che stanno Nella povertà Che stanno male E non si fanno vedere Lei invece Che voi O chi Per voi Decantate Ed esaltate Come un duce Fratelli e sorelle E questo è un errore Perché Facendo in questa maniera Voi già state distruggendo La solidarietà Questa Noi vi parleremo Di nuovo Della Seguoc Quando se Dio vorrà Ma attenzione Che questa È la posizione attuale Fratelli e sorelle Chi Pensa che siano Tutte stupidaggini Fratelli e sorelle Chi mi deride Chi dice A me non importa Ripeto Io vado sulla sostanza Le decisioni Lasciano il tempo Che trovano Ma La sostanza È questa Che questa ragazza Con le spalle coperte Da poteri forti Ha fatto quello Che ha fatto Ripeto Se era qualcun altro A questo La stava in carcere Lei invece Può tornare libera Rendetevi conto La differenza Che c'è Rendetevi conto Può tornare libera Quindi Io non vi dico Nient'altro Fratelli e sorelle Ma solo Che bisognerebbe Capire Determinati contesti Dio vi benedica Sia lodato Gesù Cristo Ave Maria